benvenuti al terzo rif facciamo un salto nella storia della nostra associazione per scoprire una minima parte di storie e volti che hanno accompagnato questi 150 anni e oltre di azione cattolica le origini dell'azione cattolica risalgono al 1867 quando mario fani che a viterbo crea il circolo di santa rosa e giovanni acquaderni attivo a bologna fondano assieme la società della gioventù cattolica è il primo nucleo di quella che diventerà l'azione cattolica la più significativa aggregazione laicale che l'italia abbia avuto mario fani e giovanni acquaderni sono innanzitutto due giovani quando fondano la relazione cattolica la società della gioventù cattolica mario fani ha 22 anni giovanni acquaderni ne ha 28 sono due giovani sono due laici due credenti laici che in quanto tali sentono la responsabilità di farsi carico del difficile contesto che stava attraversando la chiesa in quel periodo sentono cioè di avere una responsabilità da condividere e questa responsabilità è la responsabilità per tutta la missione evangelizzatrice della chiesa di cui farsi carico e di cui in qualche modo farsi anche difensori con il linguaggio dell'epoca e questo fin da subito comporta anche la consapevolezza che questo richiedeva una grande attenzione all'aspetto formativo dei giovani innanzitutto e quindi una formazione per dei laici che volessero essere credenti credibili potremmo dire una formazione che passa attraverso le tre parole chiave dell'inizio dell'associazione la formazione alla preghiera la formazione all'azione all'impegno nel mondo e la formazione al sacrificio cioè alla messa a disposizione di tutto se stessi per l'associazione e quindi per la chiesa ma in ultima istanza per il mondo nel quale si vive che bella storia e vicenza proprio a vicenza il primo gennaio 1869 nasce uno dei primi circoli italiani della gioventù cattolica è il circolo san giuseppe sorto per interessamento di padre mantovani frate dei servi di maria di monteberico e primo presidente è pietro todescan i circoli si sviluppano rapidamente nei centri più significativi della diocese bassano noventa schio valdagno l'onigo sono gruppi di giovani accompagnati da grandi figure di preti che si ritrovano con una finalità religiosa e formativa sostenendo le opere sociali sorte anche nel vicentino in quei decenni le donne hanno un ruolo importante nel 1918 armida barelli fonda all'interno dell'unione donne la gioventù femminile la gf si diffonde velocemente e diviene ben presto la più forte organizzazione dell'azione cattolica nel paese grazie a iniziative popolari e facilmente accessibili a tutti nel 1923 la c viene organizzata in quattro sezioni la federazione italiana uomini cattolici la società gioventù cattolica italiana la federazione universitari cattolici italiani l'unione femminile cattolica italiana e a vicenza cosa succede in quegli anni in quegli anni è decisiva l'opera del vescovo rodolfi che crede molto nella c pensa che nell'estate del 1922 chiama tutti i giovani a riportare sul monte su mano la croce e a giurarle lassù perenne fedeltà guardandola da tutte le parti della diocesi dice ve ne ricorderete per tutta la vita le cronache raccontano che parteciparono quasi 15 mila giovani durante il regime fascista la c è l'unica associazione autorizzata ad operare anche se non sempre molto tollerata nel 1931 mussolini ordina infatti la chiusura dei circoli dell'azione cattolica temendo la loro attività formativa i rapporti tra i cattolici e il regime si incrinano definitivamente dopo il sudalizio fra l'italia e la germania nazista questa cosa non mi piace e a vicenza cos'è successo anche da noi il clima era difficile pensa che nel 31 venne assalita dai fascisti anche la sede diocesana incontra san marco la protesta decisa di rodolfi rese questo grande vescovo uno dei simboli della resistenza della chiesa al fascismo proprio in quegli anni tuttavia maturò la straordinaria vitalità dell'azione cattolica di cui è emblema la frase pronunciata da rodolfi nel 1936 per avere buoni sacerdoti ho curato il seminario per avere buoni laici ho curato l'azione cattolica che è il seminario dei buoni fedeli molti giovani cattolici parteciparono alla resistenza mettendo a rischio sacrificando la propria vita in nome di dio della libertà della patria figure come gino pistoni joseph mair nusser odoardo focherini teresio livelli gino bartali faccio un nome che riassume un po tutti ovvero odoardo focherini odoardo focherini ha salvato decine decine di ebrei con la sua organizzazione clandestina in emilia prima di essere catturato e mandato a morire nei lager nazisti in germania quindi non ha fatto una resistenza con le armi l'ha fatta salvando vite umane ma mi viene anche da aggiungere tin anselmi un'altra che viene che veniva dall'azione cattolica e che farà la staffetta partigiana un compito rischiosissimo e non così d'avventura rosa come certe volte si dipinge un compito rischiosissimo e tin anselmi fa questa scelta dopo aver visto il corteo di impiccati per le strade del suo paese ma ci furono giovani così forti anche a vicenza certo tanti giovani soci vicentini aderirono alla resistenza furono ribelli per amore giacomo prandina i fratelli fraccon riccardo boschiero guido revoloni romeo cortiana le maestre soardi linda zini solo per citarne alcuni nel dopoguerra risulta prezioso il contributo offerto dall'azione cattolica alla ricostruzione delle basi democratiche e repubblicane del paese tra gli altri giorgio lapira giuseppe lazzati aldo moro giuseppe dossetti lavorano alla stesura della carta costituzionale alle elezioni del 1948 l'apporto dell'azione cattolica risulta decisivo per la vittoria della democrazia cristiana la c grazie al suo impegno formativo e organizzativo diventa sempre più numerosa e diffusa in tutto il paese ma lo sbilanciamento nell'impegno politico partitico e nell'attivismo genera una crisi di cui si fa portavoce carlo carretto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bello questo canto ma dove si cantava per esempio nelle nostre case alpine grazie alla gioventù femminile e all'unione donne sorgono infatti le case per ferie a tonezza per rispondere all'esigenza di garantire in modo continua un servizio formativo e apostolico oltre che sociale non va dimenticato che anche la giac contribuì alla nascita di villa san carlo negli anni sessanta il concilio vaticano secondo legittima pienamente il mandato missionario dei laici e per la prima volta parla espressamente dell'azione cattolica come scuola di formazione per un laicato responsabile che fa proprio il fine apostolico della chiesa l'evangelizzazione la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza è il tempo di vittorio bascelet presidente dal 64 al 1973 in questo contesto la c compie la scelta religiosa e decide di non essere più legata a nessun partito politico pur rimanendo immersa nel sociale e attenta alla formazione della coscienza civica e politica degli aderenti torna a riscoprire le proprie origini nell'annuncio del vangelo e nell'educazione alla fede nel 1969 viene approvato un nuovo statuto con il quale l'associazione compie la scelta democratica e assume una dimensione unitaria che si specifica in due settori giovani e adulti e nella costituzione dell'azione cattolica dei ragazzi acr la c perde il ruolo di monopolio sul laicato mantenendo tuttavia un legame particolare con la chiesa locale diocesi e parrocchia vittorio bascelet che viene chiamato da paolo sesto al ruolo di presidente dell'azione cattolica a soli 38 anni capisce da subito che il suo compito sarebbe stato quello di ripensare l'associazione per porsi al servizio della concreta attuazione degli insegnamenti che stavano emergendo dal concilio vaticano secondo il rinnovamento della chiesa italiana nella liturgia nelle catechesi nel coinvolgimento del laicato passa in larga misura attraverso la mediazione operata dall'azione cattolica che era diffusa in tutte le diocesi e in tutto il paese l'azione cattolica vorrebbe aiutare gli italiani ad amare dio e ad amare gli uomini essa vorrebbe essere un semplice strumento attraverso il quale i cattolici italiani siano aiutati a vivere integralmente e responsabilmente la vita della chiesa e insieme a vivere con pieno rispettoso impegno cristiano la vita della comunità temporale e della convivenza civile wow proprio forte questo bascele eh sì vero anche per la chiesa di vicenza il concilio è un punto di svolta e di rinnovamento negli anni del post concilio soprattutto tra i giovani un ruolo decisivo l'hanno avuto e continuano ad averlo i campi scuola diocesani le giornate di studio gli incontri di formazione negli anni matura l'intuizione educativa della cr grazie al metodo esperienziale si inaugura un modo nuovo di fare catechesi cresce la consapevolezza che l'attenzione educativa e la scelta religiosa devono essere lo stile e l'esperienza di tutta l'associazione è uno dei periodi più delicati della nostra storia nazionale caratterizzata da una profonda trasformazione della società e segnata dal terrorismo che uccide aldo moro 1978 e lo stesso vittorio bachelet 1980 a metà degli anni 80 l'ACI scrive il suo progetto formativo apostolico unitario e definisce le metodologie e i cammini formativi per le diverse età negli ultimi anni i cambiamenti sociali e culturali provocano l'ACI a ripensarsi per rendere più efficace il proprio impegno educativo e pastorale nel 2003 viene aggiornato lo statuto cui segue la stesura del nuovo progetto formativo il 30 aprile 2017 iniziano le celebrazioni per i 150 anni dell'associazione con un incontro con papa francesco in piazza san pietro a roma al quale partecipano centomila persone e il primo novembre 2019 la cr è in festa per i suoi primi 50 anni la storia dell'azione cattolica è dunque una storia che continua l'azione cattolica ha sempre cambiato se stessa ha sempre cambiato forme strutture regole nomi ha cambiato poi priorità ha cambiato i toni del proprio linguaggio ha cambiato molte cose del proprio essere ma le ha sempre cambiate per rimanere fedele a ciò che era originariamente cioè un insieme di laici che vogliono condividere la responsabilità di portare la missione evangelizzatrice della chiesa nel mondo quindi sempre l'associazione ha trasformato se stessa ma per rimanere fedele a se stessa ehi ma quello sono io certo eri presente anche tu ricordi la festa per i 50 anni della cr e quella per i 150 della nostra associazione ora tocca anche a te a tutti noi portare avanti questa bella storia la mia storia associativa come la tua è segnata dai volti incontrati che hanno lasciato un'impronta io li chiamo per nome almeno quelli che non ci sono più ma di cui resta sempre vivo il dono ricevuto e ora vuoi provare anche tu questo esercizio di memoria?